Anna, ti ricordi di quella persona di cui stavano l'altro giorno? Sì! Guardala! E lei guardala! Io non mi comporterei mai come lei! Che vergogna! Miriam, ma dai! Noi non la conosciamo! Non sappiamo niente della sua vita, del suo passato! Quello che so, mi basta per capire che tipo di persona è! Ma non sta a non giudicarla! Io una cosa so! Che lei ha sbagliato! E' proprio un'annata! Eccola, prendiamola! Ah! Ah! Oh! 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 Allora! Oh! Oh! La legno di Pontecki! comanda il capitale non deve questa e se ne accorti da tutt'erio e tu maestro cosa ne dici ascolta a me per te mi rendo volvere chiudo gli occhi e sei vicino a me e te lo sei un'emozione tangibile ti prego verso su di me il tuo malziamo d'amore tu 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 c'è tu ... tu tu il mio caro c'è rispondi maestro cosa dobbiamo fare? questa donna è una peccatrice dobbiamo lapidarla? io vi dico chi gli vuole senza peccato scali la prima pietra rispondi maestro cosa dobbiamo fare? Non c'è nessuno che ti voglia notare mai. Oh Signore, nessuno, nessuno. Che neanche io ti vogliono. Oh grazie. Io sono il Signore della vita e non ti giuro per il peccato. Ho guardato il tuo cuore. Ora va e non pecare più. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti